Sono inutile dirlo, onorato e emozionato di parlare di russo, questo è savasan dire, insomma è ovvio, anche sorpreso perché io ormai ho un'età in cui ho notato questo sistole di astole nella memoria dei classici. Russo, come tanti altri scrittori importanti, ogni tanto diciamo come i titoli in borsa, va su, va giù, sembra cadere in un oblio anche editoriale, poi invece però ci rendiamo conto che viene insegnato, ci sono edizioni economiche, c'è tutto il lavoro degli studiosi che ahimè, devo confessarvi, non è il tipo di approccio che mi appartiene, il mio è un approccio solamente da lettore, da lettore di lunga data, per me la lettura di russo è un'esperienza tra quelle veramente capaci di modificare non solo il nostro atteggiamento di fronte ai libri, ma anche un po' di darci quella risposta che cerchiamo sempre nei libri, che poi in fondo si riduce in due parole, come vivere, cos'è questa fatica, questo è un posto che si chiama circolo dei lettori, presuppone un'immensa quantità che rasenta l'infinito di cose scritte, di idee, di giudizi, di reazioni ai giudizi, tutta una sorta di infinità di cui a volte, certe volte, come in quell'attimo di consapevolezza in cui noi diciamo voglio scendere da questa cosa, possiamo anche dire che ci serve, no? È il tipo di scrittore incarnato da russo che, badate, è molto raro, si contano sulla punta delle dita, soprattutto in età moderna, è quello che assomiglia moltissimo per molti aspetti al nostro Pierpaolo Pasolini, cioè è il tipo di scrittore che ha un desiderio supplementare rispetto proprio a quella che è la carriera di scrittore e la produzione di testi, che è quella di collaudare quello che scrivono, cioè di vedere costantemente se quello che scrivono può essere praticabile nell'esistenza, nell'esistenza proprio quotidiana, in maniera molto diversa, Pasolini e Russo passano non in vano due secoli tra l'uno e l'altro, il mondo è cambiato, le stesse modalità dell'espressione, le cose che scrive Pasolini sarebbero incomprensibili a Russo. Questo atteggiamento richiama dei modelli antichissimi, che questi scrittori entrambi moderni, quindi entrambi nati dentro una professionalizzazione della cultura, in qualche maniera sembrano delle anomalie incomprensibili, capaci di destare molta aggressività, proprio perché la loro costante commisurazione di quello che scrivono a quello che sono diventati si crea una specie di provocazione costante, che ha a che fare con dei modelli, appunto, uno è il modello mistico, indubbiamente, i mistici sono proprio questi, il mistico si potrebbe riassumere in quella splendida chiusura di uno dei grandi testi della spiritualità europea, che è il pellegrino cherubbico di Angelo Silesio, che dice se sei stanco di leggere, va e diventa tu stesso la scrittura e l'essere, cioè incarna l'insegnamento evangelico tanto da essere tu il protagonista della storia. Cosa significa essere stanchi di leggere? Essere stanchi di confrontarsi con un sistema di senso che non riguarda direttamente le possibilità di destino dell'individuo, che legge o che scrive. Perché aggressività? Perché poi queste persone, adesso parlo di Pasolini in russo, ma potrei parlare anche di altri rari rappresentanti di questo atteggiamento, in realtà sono proprio dei cani sciolti, sono delle persone che poi si mettono in una posizione di solitudine totale. Cioè, quando studiamo la loro vita, è ovvio che Rousseau, per la sua idea di una società primitiva, per la sua idea dello stato di natura, per la sua idea dell'immediatezza e della trasparenza dello stato di natura, potesse suscitare sospetti di ateismo. Quindi è ovvio, sta nelle cose, che la parte clericale, i gesuiti con le loro abilissime polemiche culturali, le tecniche di discredito, sapete, tutti i nemici di Rousseau vanno filtrati attraverso testimonianze storiche che siano un po' oggettive, perché a Rousseau non mancava anche un certo grado di paranoia, cioè fu veramente perseguitato. Nel 1764 la Sorbona mise a rogo le mille e se non riusciva a scappare sarebbe finito la bastiglia. Insomma, non era senza dubbio la... Però poi c'è un aspetto, no, negli scritti di Rousseau, di senso di persecuzione che non è legato proprio a determinate verità. Cioè, però, indubbiamente ha avuto nemici acerrimi, ma quello che non può stupire ingenuamente è quanto Rousseau sia stato odiato dai suoi amici. E questo si riflette perfettamente nel destino di Pasolini, che è un pensatore odiato dalle destre che risulta oggi di meno, ma molto estraneo al pensiero di sinistra, molto polemizzato. I grandi nemici di Rousseau non furono né i gesuiti, né alcuni ordini tipo i cistercensi che lui accusa, gli oratoriani. Certo, questo è chiaro nella storia dell'illuminismo, no? L'illuminismo porta la luce, quindi c'è una reazione ecclesiastica molto violenta contro gli enciclopedisi, ma i peggiori nemici di Rousseau sono di Diderot, sono d'Alembert, sono soprattutto Voltaire, Voltaire che nel suo epistolario lo chiama centinaia di volte cane. anzi, quando viene morso da un cane, figuriamoci, si diverte tantissimo a pensare al cane cannibale, da quanto gli abitudini... poi moriranno lo stesso anno non riconciliati. Quando quel mondo che loro rappresentano, poi già siamo nel 1778, c'è l'orizzonte, poi ormai vicinissimo, l'89, l'inizio di tutta un'altra storia. E questo è la conseguenza della provocazione di Rousseau. Perché Rousseau non ha... Anche se lo ha articolato in varie maniere, gli storici del pensiero hanno stabilito delle... Una cosa l'ha sempre... Non ha mai smesso di pensarla. Cioè, che noi siamo individui corrotti dalla società. Noi siamo individui che in qualche maniera dobbiamo guardare a quello che si può definire uno stato di... Una condizione che è lo stato di natura. Se noi perdiamo totalmente un legame con questo mito, siamo perduti. Questo è lo scandalo di Rousseau. Poi, è chiaro che Rousseau non è un antropologo, non è uno storico, la sua idea di ciò che accade prima del famoso patto sociale è abbastanza poetica, mitologica, però esprime non va verificata storicamente, esprime una forte componente di disillusione dell'uomo sociale, esprime una necessità che noi possiamo verificare in ogni giorno della nostra vita di riappropriarsi di qualche cosa che ci assomigli di più del patto sociale, perché poi in gioco appunto non c'è una domanda teorica e filosofica in Rousseau che rimane là e cercherò di spiegarvi perché, ma c'è la possibilità di incarnare un modello, una forma di vita, una forma di vita caratterizzata da un parziale, riappropriarsi di una libertà e questa è la sfida che a ogni gesto di lettura ci viene rilanciata, cioè non semplicemente apprezza la coerenza interna di un pensiero, la sua credibilità, i suoi riferimenti storici, ma in qualche maniera libri come Le Confessioni, la Giulia, la Nouvelle Louise, lo stesso Trattato Pedagogico, lo stesso Emile e in ultimo questo libro splendido su cui baserò le osservazioni di oggi che sono le fantasticherie di un passeggiatore solitario, libro incompiuto per la morte, lo scrisse fino a poche settimane prima della morte, arrivando alla decima passeggiata che è poco più di un brogliaccio, di un appunto. Sono libri in cui il pensiero diventa una forma di esistenza, diventa una possibilità di rapportarsi ai dati della vita, a rispondere a questa domanda insolubile come possiamo vivere, cosa facciamo della nostra vita. È chiaro che la costanza di questo pensiero è stata espressa benissimo da quello che è a mio parere il più grande lettore di Rousseau tra i criti, almeno quelli che conosco, che è Jean Starobansky che è un concittadino di Rousseau tra l'altro, nato a Ginevra, uno dei più grandi critici del novecento che ha scritto un libro con questa forma, che è un libro straordinario di analisi microscopica del pensiero di Rousseau ma di cui vi voglio segnalare perché è una formula memorabile proprio il titolo La trasparenza è l'ostaco perché proprio questo grande critico svizzero mette trova questi due termini per definire proprio la dialettica perenne che esiste il Rousseau al di là delle apparenti contraddizioni del suo pensiero chiaramente è un pensiero che si evolve che non ha delle forme letterarie canoniche perché Rousseau è un grande sperimentatore un pensiero che si avvale del diritto a contraddirsi continuo perché questo fa proprio parte della percezione del sé di Rousseau che è una percezione mobile fugace influenzabile dall'esterno però questi due termini perché la trasparenza è proprio la condizione dello stato di natura lo stato di natura è quello stato in cui l'uomo è trasparente a se stesso e agli altri quindi per esempio ha un'espressione del desiderio che è esattamente corrispondente a ciò che desidera ha questo stato mitizzato da Rousseau e parzialmente assimilato all'infanzia non esiste la mediazione sociale non esiste dunque l'ipocrisia non esiste quell'accomodamento reciproco che pure è una è un aspetto della realtà dell'esistenza che nessuno tantomeno Rousseau sarebbe in grado di negare totalmente d'altra parte c'è l'ostacolo per il singolo individuo tutto quello che è esistenza sociale è un ostacolo è una perdita di trasparenza è una perdita di legame diretto tra il sé e l'oggetto del suo desiderio fondamentalmente tutto quello che siamo anche non dico le istituzioni politiche ma anche ad esempio la vita letteraria la vita intellettuale che noi potremmo considerare come un elemento di libertà all'interno della società perché è fatta di individui solitari che scrivendo danno forma alla loro visione del mondo ne creano come una miniatura un'immagine credibile ebbene tutto questo per Rousseau fa parte dell'ostacolo tanto è vero che lui ha una formula che è stata scommentata che è stata accusata tacciata di ipocrisia che lui dice proprio l'origine dei miei mali è stato iniziare a scrivere quando io ho letto che c'era un concorso dell'accademia di digione che aveva dava dei soldi un riconoscimento per svolgere un determinato oggi diremmo partecipare a un premio letterario iscriversi a un master una scuola di scrittura quella cosa lì corrisponde nella mitologia del privata di questo scrittore all'incontro di Eva con il serpente cioè da lì è nata un'esistenza che appunto è all'insegna dell'ostacolo perché perché lo scrittore non esprime direttamente il suo desiderio perché lo scrittore per il fatto stesso di scrivere si inserisce in un meccanismo di convenzione questa è la in cui deve rinunciare a dosi sempre crescenti di autenticità e soprattutto per sua natura il linguaggio letterario il linguaggio degli uomini colti il linguaggio delle persone che scrivono quello che nel settecento si chiama i filosofi poi che è un'accezione molto più vasta di come oggi potremmo dire che un filosofo è Massimo Cacciari o Giorgio Agamben è meno professionalizzata i filosofi sono coloro che appunto attraverso la professione dell'intelletto attraverso l'esercizio dell'intelletto creano un mondo più vivibile tutti noi ci batte il cuore quando pensiamo all'illuminismo perché pensate all'enciclopedia c'è che impresa sapete il frontespizio dell'enciclopedia ha questa donna bellissima che sparge luce la verità e ci sono ai suoi piedi così dei nugoli di ombra che piano piano si dissolvono questo piace a tutti però è come poi accadrà Pasolini nel novecento che metterà in luce il lato oscuro del progressismo a lui tocca mettere in luce per questo sono partito proprio dal fatto che questi sono individui che vengono odiati molto più che dagli amici che dai nemici per un gesuita russo è un'anima persa basta un momento la famosa lacrimuccia di Dante e la conversione e viene totalmente perdonato la chiesa storicamente non si è mai accanita così tanto ma loro dicono come questa è la nostra nobiltà produrre idee l'opinione è qualcosa che viene considerata in quella civiltà un elemento viene considerata giustamente voglio dire la mia amore per russo non mi permette di negare la verità viene considerata giustamente come un elemento di raffinamento della società per russo è un gioco di causa e effetto che trascina ogni individuo lontano da quello che lui era ci sono delle delle pagine che non possono che far riflettere chiunque legga o scriva libri non perché deve convertirsi a quello che dice russo ma perché nella vita c'è bisogno di equilibrio nella vita c'è sempre bisogno di riconoscere l'ombra anche di ciò che amiamo non esistono cose su questa terra poi in paradiso probabilmente non esistono cose totalmente buone e questo è il valore di questi maestri del dubbio e lui che pure appunto è cresciuto all'ombra di Voltaire gli vengono affidati tutti gli articoli musicali della grande enciclopedia che è uno scrittore di successo che ha una oggi si direbbe scala le vette delle classifiche ma quando scrive il suo romanzo più famoso la nouvelle Eloise crea un fenomeno che è quello del Robert Darnton che è un grande storico americano dell'illuminismo ha scritto un saggio bellissimo è andato a ricercare negli archivi di stato di Parigi quanta gente ha chiamato ma anche del popolo ha chiamato Julie o Eloise la figlia dopo quel romanzo un fenomeno del genere è accaduto solo a Napoli quando negli anni 80 i bambini venivano chiamati Diego Armando insomma questo era un personaggio di Romanzo le persone della mia età ricordano all'inizio degli anni 60 che per un film famoso molte bambine della mia età si chiamavano Sabrina ma sono fenomeni rarissimi cioè quando un'opera di intelletto agisce sull'onomastica vuol dire che crea una voi sapete quella bellissima storia d'amore una storia d'amore imperniata su una rinuncia no? perché una storia d'amore che oppone il famoso amour passion all'amore passionale all'amore coniugale una grande studiosa che insegnava proprio qui a Torino si chiamava Elena Pulcini ha scritto un libro bellissimo proprio su Russo che si intitola Amour passion e amore coniugale sono diciamo non è il curriculum di una persona frustrata che si sente escluso dal successo letterario dal successo filosofico in quel senso lì settecentesco è una persona che ha scontato sulla sua vita la cessione ha constatato la cessione di parti troppo importanti di sé per essere barattate con la sua partecipazione al linguaggio comune dell'attività letteraria perché questo linguaggio appunto è caratterizzato da due elementi che ci sottraggono la percezione di noi stessi il primo è ovvio che proprio nel meccanismo dell'opinione ci sono parole contro parole no mettiamo che guardiamo un dibattito in televisione uno dice questo mi sta antipa l'altro dice no è simpatico il terzo dice no ma non è simpatico in quel catena di parole che cosa succede che nessuno si ricorda cosa pensa lui veramente chi è lui veramente rispetto a quelle parole perché l'aspetto reattivo è più importante del fatto che il linguaggio esprima fin dalle radici ciò che uno è l'altro aspetto più insidioso è che si parla per essere amati tutti noi qua devo dire nella mia esperienza di scritto nessuno è puro rispetto a questo possiamo rifiutare l'accusa di essere dei mercenari per esempio di scrivere per desiderio di guadagno possiamo tante accuse volgari le possiamo trascurare ma noi scrivendo vogliamo essere amati indubbiamente quindi questo falsi questo è il vero è vero ostacolo perché non siamo noi stessi se io scrivo qualche cosa per essere amato non sarà mai quello che io dico non sarà mai l'espressione esatta di me stesso sarà un'esca per l'amore questo è la e quindi questa cosa qui questo è stato il primo a capire che cosa creava l'industria culturale allora ripristinare un modello mistico ma anche un modello greco nelle reverie infatti lui significativamente non si fa mai complimenti a un certo punto dice io sono come diogene che sapete oltre a vivere nella botte cercava l'uomo cercava un uomo vero con la lanterna la famosa lanterna di diogene perché la Grecia antica aveva prodotto i più esempi più chiaro è quello di Socrate aveva prodotto quel sapiente che non era distinguibile quello che eventualmente scrive oltre che i greci quel tipo di filosofo che si chiama presocratico non scriveva nemmeno quindi era interamente la sua sapienza la incarnava un libro bellissimo di un studioso francese Marcel Detienne che si chiama i maestri della verità nella nella Grecia antica russo voleva essere un maestro di verità voleva recuperare quella dimensione socratica cosa succede lo succede con Platone che tanto poi ha amato Socrate che il pensiero filosofico si professionalizza cioè non conta più che cosa incarna Platone conta il suo pensiero il testo il testo va nel mondo e quindi suscita reazioni suscita ammirazione suscita anche odio ma non c'entra si è allontanato da chi quello è un linguaggio lui non sopporta e quindi figuriamoci quanto soffre di questa cosa perché è connaturato al nostro mestiere di di produrre è connaturato al nostro mestiere di creare dei testi scritti che vanno per il mondo che non sono più noi che si allontanano e lui ha due formule memorabili per questo uno è i filosofi i miei amici fanno filosofia imparano per insegnare questa è la prima cosa che lui ritiene ma lui dice come ma noi potrebbe anche essere scambiato per generosità dice io imparo per insegnare gli altri no lui dice io se imparo voglio imparare per me stesso sono io che mi devo migliorare non devo insegnare niente a nessuno questa cosa crea un cortocircuito se uno non impara per insegnare non esiste il circo dei lettori non esiste la facoltà di di qualunque cosa cioè pensate quant'è forte questa critica quant'è si spreca sempre il termine sovversivo trasgressivo rivoluzionario lui era un vero tant'è vero che poi i suoi nemici gli mandavano a tirare le pietre sulle finestre di casa perché questo è un'accusa che non possono sopportare e poi un'altra cosa dice loro fanno quella e questa è veramente una formula memorabile perché poi era anche una persona molto spiritosa lui dice loro fanno la filosofia per gli altri io sto cercando sbagliando contraddicendomi probabilmente assegnando a questo stato di natura che è mitologico una risposta che non è mai esistito lui sapeva tutto dei limiti del suo pensiero però io voglio fare una filosofia per me stesso perché l'unica filosofia che conta è la filosofia io adesso scusatemi perché sono un avevo solo vi avrei portato una delle bellissime traduzioni delle fantasticherie ma avevo solo quindi vi volevo leggere una pagina perché è veramente sorprendente come lui però individua un problema che è un problema di tutti noi cioè un problema che quando noi diciamo sì va bene ho passato un pomeriggio a leggere cosa ho fatto no cioè spesso tutti noi rischiamo di scollarci dalla necessità interna di quello che facciamo studiando scrivendo facendo una conferenza e bisogna pensieri come questi hanno il valore appunto non di una conversione ma di una forza contraria di qualche cosa che equilibra in qualche maniera il nostro cammino ci mette degli elementi di più un po' più di sale non è del tutto giusto quello che facciamo questo non vuol dire che dobbiamo rinunciarci e fare la vita di Rousseau ma sapere che esiste una prospettiva in cui appunto quello che facciamo è sempre il rischio di falsificare l'individuo lui dice ne ho conosciuti tanti di filosofi ed erano molto più colti di me ma la loro filosofia gli era straniera appunto producevano parole ma queste parole erano straniere a loro stesse volendo essere più sapienti degli altri e qui è il secondo tema cioè il giudizio degli altri studiavano l'universo per sapere come era combinato come se avessero studiato una macchina che avessero visto per pura curiosità e che c'è di male nella pura curiosità ma appunto la pura curiosità rende il mondo estraneo all'anima non permette quel processo di interiorizzazione che è fondamentale l'esteriore che diventa interiore questo è il movimento dell'autenticità e il movimento della trasparenza che proprio la cultura che dovrebbe essere il vertice della trasparenza invece rende opaco lo rende vittima appunto di un ostacolo studiano la natura umana per saperne parlare in maniera colta ma non per conoscersi lavorano per istruire gli altri ma non per chiarire che cosa sono al loro interno molti di loro non vogliono che fare un libro non importa quale perché purché sia ben accolto e qui devo dire chiunque scriva no c'è una componente no queste sono frasi che io ho sempre maneggiato con una certa cautela perché io francamente non accetto di sentirmi in colpa se leggo il mio amato Rousseau io voglio che ci sia qualche cosa in me che però reagisca positivamente a questa provocazione quando infatti il libro era stato pubblicato sono contenti non gli interessa più in nessun modo quello che hanno scritto se non per farlo comprare agli altri e per difenderlo nel caso che venga attaccato ma per tutto il resto non sono nemmeno toccati dal fatto che quello che dicono sia vero o falso loro sono toccati solo dal fatto che la loro teoria sia più o meno accettata o più o meno rifiutata per me quando io ho un desiderio di apprendere qualcosa è per sapere io stesso quello che voglio apprendere non per insegnarlo ho sempre pensato che prima di insegnare agli altri bisogna cominciare per sapere abbastanza su se stesso e di tutti gli studi che ho provato a fare nella mia vita in mezzo a vivendo la mia vita in mezzo agli uomini non ce n'è uno che io non avessi potuto fare esattamente in un'isola deserta dunque tutto il consenso che mi deriva dal mio desiderio di apprendere lo devo commisurare a un'altra idea mitologica che però è molto utile vedete come questa persona che ci può stare antipaticissima in realtà ci sta fornendo un criterio molto valido cioè lui dice fai quello che vuoi ma tu lo faresti se fossi da solo un po' come quel famoso bellissimo detto taoista stai da solo nella capanna nel bosco come se fossi davanti all'imperatore e stai davanti all'imperatore come se fossi nella capanna del bosco quello è il vero saggio lui senza conoscere chi erano i taoisti dice una cosa del genere lui dice io non nego che l'uomo voglia imparare lui accetta questo dall'illuminismo ma se io veramente voglio imparare per me stesso o scrivere per voglio essere qual è il criterio di verità il criterio di verità per lui è geniale è che questa quella stessa cosa susciterebbe il mio interesse e la mia fatica se io fossi in un'isola deserta e questo è un criterio di orientamento nella vita che chiaramente non poteva che fare imbestialire l'intellettuale professionalizzato l'intellettuale professionalizzato non può ragionare così perché semmai penserà all'isola deserta come al polo negativo di quello che fa perché non è comunicabile non è insegnabile lui fa la stessa lui ci dice tant'è vero che quest'ultimo libro ad esempio la sua posizione è quasi quella di un'isola deserta perché questo è un libro di una persona perseguitata al di là della paranoia ci sono dei motivi in questo libro lui ci racconta semplicemente le sue passeggiate per Parigi oggi sono passeggiate che hanno una diciamo lui indica dei posti in campagna oggi sapete come sono le città sono delle fermate di metro di Parigi che sono in centro però lui perché il suo il suo movimento fondamentale lui vive in centro a Parigi proprio è camminare e andare verso la la campagna questo è la forma narrativa che ci dà questo libro straordinario voi pensate che per rendere meno diciamo culturale cioè per sottrarre all'ostacolo lo stesso atto di scrivere a cui lui non rinuncia lui addirittura si inventa lui non chiama i dieci capitoli di questo libro capitoli non li numera sono passeggiata numero uno passeggiata cosa vuol dire questo che mentre il termine capitolo in qualche maniera riguarda l'essere collettivo dello scrittore i libri sono divisi in capitoli con promenade numerando il suo libro in promenade lui chiaramente suggerisce una riappropriazione totale anche della scansione normale di un libro perché ogni passeggiata è irripetibile ogni passeggiata è esattamente il frutto di quelle circostanze di quella configurazione di umori di circostanze di bel tempo di cattivo tempo che lo rendono tant'è vero che quello che scatena tutto questo libro al di là della persecuzione è un altro episodio che lui racconta proprio all'inizio del libro che è molto toccante e significativo perché lui in una di queste passeggiate ha un incidente lui cammina sempre se conoscete Parigi insomma in quella direzione dove c'è il famoso cimitero per l'asceso la collina si chiama di Menilmonta e lì era già in un posto oggi è difficile immaginare perché ci sono centri commerciali garage musei cioè proprio città anzi è centro diciamo oggi no lì arrivava a delle ferme come chiamano delle proprietà delle tenute dove poteva fare quello che a lui piaceva di più che era la forma del sapere che lui ritiene appunto più adatta a lui perché è equivalente nel mondo e nell'isola deserta è erborizzare cioè quella forma di botanica che diciamo consiste nel trovare i vari esemplari incollarli con un particolare arte lui faceva degli erbari meravigliosi e questa è la sua quindi lui esce proprio dal centro dell'ostacolo della società questo centro di Parigi dove tutti lo guardano tutti lo trattano male dove i suoi nemici se qualcuno lo tratta bene lui racconta poi gli vanno a dire lui per esempio aveva fatto amicizia con i vecchi militari agli invalidi insomma al posto dove la pensione dei vecchi militari poi vanno ad avvertirli che quello è un nemico di Dio quindi questi non lo salutano più lui si sente sempre più poi appunto cammina scendendo dalla dalla discesa e per la discesa che cosa succede che praticamente viene investito da un cane perché i nobili di quei tempi si facevano seguire le carrozze da dei grandi cani o da caccia o semplicemente per ostentazione e una carrozza scendendo giù quindi lui arriva al grado zero dell'esistenza sociale perché ha un momento di shock e non si ricorda chi era però in quel momento come a volte capita durante questi momenti di di trauma fisico sente una sensazione mentre viene soccorso senza una sensazione di benessere perché in questa amnesia parziale lui gode della pura sensazione di esistere ci racconta in pagine meravigliosa allora dice ma io questo adesso mi voglio portare fino alla morte non ho bisogno di altro se non di fondare questa mia rivolta privata non su un'idea di giustizia non sull'odiare il re non sull'odiare i gesuiti ma semplicemente sul fatto che lui esiste e in questo pura sensazione di esistere lui riconosce un bene assoluto qualche cosa che è proprio la vecchia trasparenza dell'uomo primitivo del buon selvaggio che ha studiato sono tutte idee risibili quelle dell'antropologia di Russo non è mai esistito il buon selvaggio ma vedete quanto gli sono stati utili perché nel momento in cui poi si trova lui dice io sono questa cosa mi ha ormai privato di tutto non posso più pubblicare un libro i miei libri sono stati bruciati sono dovuto c'era un posto dove vivivo bene che era l'isola di Saint Pierre sul lago di Bien forse qualcuno di voi l'avrà visitata perché è un luogo di pellegrinaggio di tutti i russoiani del mondo dopo due mesi mi hanno cacciato da là sono proprio un reietto della società non c'è niente per me però questa sensazione e l'atto di camminare sono come il microcosmo che equilibra il che compensa diciamo l'aggressività che lui subisce cioè finché io cammino in campagna finché raccolgo i miei fiori finché godo della pura sensazione di esistere che mi è stata rivelata da un fatto occidentale di cui io però al di là dell'accidentalità ho fatto tesoro allora esiste per me una possibilità di vivere felice e di raccontare questa cosa perché questa cosa anche se non ha degli aspetti di esemplarità quello che noi abbiamo un'idea di Rousseau certe volte fin da scuola come un'idea antipatica come un colpevolizzatore ma mentre questa cosa non è del tutto non sarebbe un'accusa del tutto ingiusta nei confronti di Pierpaolo Pasolini da cui sono partito in Rousseau non c'è questo in Rousseau c'è semplicemente l'indicazione di una strategia a partire dalla consapevolezza che lui non è un uomo libero in questo libro che il suo testamento che è scritto fino al libro dice guardate continuamente ci dice io non sono un saggio non c'è nulla di più antipatico di qualcuno che raggiunta la verità la voglia insegnare ad altri io sono il primo che poi ritorna facendo il percorso inverso dalla campagna alla città mi ricorrompo perché comincio a preoccuparmi di quello che dicono di me comincio a preoccuparmi di quello che mi guarda male comincio lui ha un'immagine bellissima della società che è una cosa sublime perché riguarda una cosa in cui io sono sicuro in questa è un'esperienza che abbiamo fatto tutti e veramente lo dico da scrittore prendere esperienze che abbiamo fatto tutti e rendere significative è una delle cose più difficili per un narratore per un filosofo eccetera quante volte ci è capitato di pensare a una risposta che avremmo potuto dare dopo che l'occasione è passata avrei potuto dirgli quello anzi ci figuriamo come eroi di Plutarco la scena ma in quel momento non ci è venuta in mente e lui da questa banalità che qualcuno per cattiveria gli aveva chiesto dei suoi figli che lui aveva dovuto per affidare all'orfanotrofio non poteva mantenerli e finalmente inventa una frase che avrebbe messo a tacere quella dama pettegola che gli faceva la domanda solo per cattiveria e lui dice è proprio questa la società cioè la società è un luogo talmente privo di immediatezza che le risposte giuste sono quelle che ci vengono dopo quando non c'è più l'interlocutore e questa non è noi pensiamo dato che sono sicuro che tutti abbiamo fatto questa esperienza io ci soffro perché molte volte proprio mi viene in mente dopo un'ora dopo un giorno ma tutti noi abbiamo quelle risposte che avrebbe voluto dare al momento giusto non è colpa nostra non è che non ci sono venute in mente è che la società è un meccanismo di perenne differimento e in questo differimento c'è il dolore perché uno non attinge mai la la trasparenza di di ciò che è di ciò che vuole in questa maniera da questo minimo esempio lui non può dire dice io sono ancora uno che sta lì a pensare a quello che avrei potuto dire perché perché non può vivere nella campagna deve ritornare deve mangiare deve sostentarsi deve lui di lavoro copia la musica come fonte di sostentamento a una moglie a pochi amici che gli sono fedeli quindi ritorna a Parigi e questo rende questo libro un libro che è passato da una generazione all'altra senza mai perdere la forza suggestiva perché se lui ci dicesse io sono una persona che ha raggiunto lo sta sarebbe finto sarebbe peggio di quello che lui critica e quanti di quanti venditori di saggezza dobbiamo diffidare lui dice semplicemente io purtroppo vivo dei miei sensi io posso solo camminare lontano perché via via ogni passo che faccio mi dimentico di queste meschinità ma non che come fa l'uomo è super è cernato siamo tutti nati meschini siamo tutti nati in qualche maniera determinati dal giudizio degli altri dal desiderio folle di essere amati dal desiderio di non fare brutta figura dal reimpianto per quello che avremmo potuto dire e non abbiamo detto ma noi possiamo inserire nella vita un ritmo di sistole e di astole noi possiamo andare verso la trasparenza e ritornare nell'ostacolo andare verso la trasparenza e ritornare nell'ostacolo il senso della passeggiata e la pratica della libertà che è insita nel termine promenade non è immaginabile come una linearetta che ti porta fuori dal mondo quello è il suicidio che è un un'altra ricetta no? di carattere stoico l'eroe romano descritto da Plutarco no? quello brutto no? sapete quello di Catone di Dante no? libertà va cercando come sa chi per lei vita rifiuta no? percorre quella linearetta nei confronti lui no lui ci descrive una persona ancora immersa in quel tessuto di emozioni e relazioni di cui ha scoperto il lato in ombra il lato oggettivamente di però nello stesso tempo non ha non ha in sé il il carattere diciamo del profeta del maestro di vita del guru anche se spesso gli è stato assimilato anche perché i momenti di estasi e saggezza sono momenti e lui lo dice lui dice una cosa che secondo me dobbiamo sempre ricordarci lui dice tutta la mia forza è negativa ma perché io posso oggettivamente camminando in questa situazione che non a caso riguarda anche il fisico perché chiaramente è qualche cosa che non si produce solamente con la mente si produce in un atto di dislocazione nello spazio che sposta un po' la responsabilità sull'essere fisico altrimenti anche lì sarebbe ridicolo qualcuno che pensa che si è salvato per avere preso per il bandolo della matassa il puro sentimento di esistere e sta sempre seduto il puro sentimento di esistere è il sentimento di possedere un corpo è il sentimento di amare i colori gli odori della natura nel caso che ci descrive o la bellezza questo è un libro pieno di sensualità di amore per la vita questo nelle sue manifestazioni fisiche d'altra parte appunto la passeggiata è qualche cosa che ci fa proprio non esiste una passeggiata da cui uno non ritorna diventa una tragedia diventa che ti vengono a cercare la passeggiata è sempre un'idea circolare del movimento nello spazio tu parti e ritorni a casa quindi ritornando tu verrai diciamo ricontaminato dall'ostacolo questo è è il piano di credibilità psicologica assoluta da cui ci parla Rousseau io vi parlo di libertà ma non sono libero perché se io fossi libero diventerei ancora come quei filosofi che imparano per insegnare e questa è la cosa proprio è la rappresentazione di sé in questa maniera che è a metà libera e a metà vincolato da questi catene che probabilmente non sono non è possibile affrancarsi probabilmente nemmeno nell'isola deserta noi avremmo un ricordo del nostro essere sociale che ci rinserirebbe in un meccanismo di azione e reazione che magari sarebbe peggiore di quello di accontentarsi di vivere nel centro di Parigi e ogni tanto però di riappropriarsi perché è proprio la circolarità di questa di questa esperienza che la rende credibile è la non radicalità è tutto quello che è alla portata di mano di un qualunque essere umano che non può non è più capace di identificarsi semplicemente con il suo essere sociale ma non che recide quelle radici perché la rescissione delle radici Rousseau lo sapeva benissimo equivale alla morte noi non possiamo non possiamo vivere completamente liberi da ciò che ci rende prigionieri la la felicità terrestre è la felicità del singolo questa è vedete non mi stupisce che Giacobo Leopardi abbia sempre letto Rousseau tanto per parlare anche dell'importanza di uno scrittore in un dialogo tra spiriti che non è solo fondato su un'idea stratta filosofica di solitudine ma proprio sull'idea scandalosa per il cosiddetto ottimismo e progressismo moderno che non si può fondare un'idea di felicità sulla felicità delle masse questo libro è stato scritto negli ultimi mesi del 1778 i primi scusa e Leopardi nel 1832 scrive una lettera da Roma a una sua amica in cui dice forse vi stupirete che non penso niente di quello che succede c'era il risorgimento tanto per dirne una dice io sono un po' come un turco dice che fuma il larghi le sul mio divano però dice a mia difesa posso dire una cosa questo mondo che cerca la felicità delle masse come la può creare se le masse sono fatte di esseri singoli infelici quale potrebbe essere il moltiplicatore per cui l'infelicità individuale diventa la felicità delle masse questa è una domanda che Rousseau e Leopardi porgono al progressismo senza mettersi a diventare conservatori cioè loro non interessa di opporre un'ideologia contraria loro anzi entrambi sono dei pessimisti che vivono a stretto contatto con elementi di Rousseau lo detto di Leopardi figuriamoci vive in stretto contatto con esponenti della cultura risorgimentale del cambiamento in atto del pensiero liberale loro si pongono questo problema qua cioè il problema è quello di realizzare la felicità dell'individuo la felicità dell'individuo non è egoismo è un argomento politico perché il pensare e loro non avevano visto che cosa ha creato nel mondo moderno che orrori ha creato la felicità di massa quando mi viene sempre in mente quando leggo sia Rousseau che questa lettera di Leopardi un discorso di Stalin uno dei più famosi discorsi di Stalin che dice cari compagni i nostri nemici devono capire che la vita non è mai stata così felice come ce l'abbiamo noi in Russia probabilmente cioè vedeva una folla enorme ci credeva pure non penso che fosse solo ipocrite e quella felicità malata che è la felicità di tutti stava stava menzionando Stalin loro dicono ed è un pensiero veramente raramente noi troviamo un pensiero così apportato finché lui dice gli uomini erano tutti i miei fratelli come in ogni schema progressista facevo dei progetti di felicità terrestre e mi ha scritti tanti fino alle mille fino ai primi anni sessanta russo questi progetti erano sempre relativi al tutto e non potevo essere felice che della felicità pubblica e mai l'idea di una felicità particolare ha toccato il mio cuore finché ho visto i miei fratelli che potevano essere felici di fronte alla mia miseria e allora che cos'è questo questo patto tra persone che volevano cambiare il mondo se la mia miseria vuol dire che questa non aveva senso cioè da individuo sperimenta il il fatto che per quanto nobile per quanto dotata sicuramente di buonissime intenzioni il bene di tutti è un bene che prescinde dall'unico criterio di realtà che noi possiamo avere su questa terra che è la miseria o la felicità individuale dunque questo atto in apparenza così privo di pensiero che è il camminare il mettere una gamba dietro l'altra diventa una strategia di salvezza straordinariamente efficace straordinariamente capace di contagiarsi anche a secoli di distanza perché non è un progetto come tanti progetti di pessimismo filosofico nel quale non si può vivere quando noi anche adesso ho citato Leopardi ma pensiamo anche a Schopenhauer noi ammiriamo quella cosa noi ammiriamo un carattere di verità però ci sentiamo come su anche quando leggo Choran arriviamo tipo a 8000 metri però sì forse è il vertice della ragione umana ma non è respirabile l'atmosfera lassù non ha più niente a che fare con la nostra esistenza la nostra esistenza è basata su un compromesso appunto quello che lui intuisce straordinariamente in un movimento di andata e ritorno che è dato appunto dalla passeggiata nessuna passeggiata redime completamente l'essere umano dal suo vincolo sociale nessuna passeggiata però è incapace di creare per quel singolo essere umano degli spazi di decompressione di libertà che hanno appunto a che fare con l'idea della della proprio della della salute quando lui è molto bello quando racconta anche con grande autoironia i tentativi estremisti che lui fa no di che sono appunto l'idea appunto sono tutto quel polo dell'isola deserta no e lui dice una cosa molto bella dice ho smesso di impiegare la mia forza in una vana resistenza questo è proprio veramente a mio parere l'apice della saggezza no quando noi capiamo che nella resistenza nell'idea di resistere c'è un elemento di fissità del pensiero di continuità che non è adeguata alla mobilità della singola giornata no e lui ci suggerisce resisti e abbandonati resisti non accettare te stesso e accetta te stesso cioè lui l'oracolo delfico conosci te stesso no lui lo declina a secondo di una contraddizione cioè lui dice chi conosce se stesso non si sopporta e si accetta e questo il suo movimento fondamentale è contraddittorio però è straordinariamente vero tutto viene da un temperamento versatile che può essere agitato da un vento impetuoso ma che rientra nella calma nell'istante in cui il vento non soffia più il mondo non sta sempre a tormentarci il mondo non sta sempre a sedurci non crea più l'anima è leggera più l'anima è immobile più potrà avere nel suo arco nelle sue frecce il il tempo della della resistenza il tempo dell'abbandono il tempo in cui appunto si allontana da questo centro della città che è il tempo in cui la stessa mobilità e varietà dell'anima gli rende sopportabile il ritorno tra i suoi simili ora chiaramente ogni io per esempio penso mi stupisce il fatto che ad esempio se voi andate su Amazon no cercate una traduzione io vi ho inflitto la mia traduzione all'impronta perché ho trovato solo l'edizione francese che avevo ma ci sono due una di Andrea Canaobbio e una di Beppe Sebaste sono ne hanno fatto un libro bellissimo in italiano e non mi stupisce quest'anno ho letto due libri di Canaobbio e Sebaste non sapendo mi sarei occupato assieme a voi di Russo dal punto di vista letterario non ne parliamo ne vedo perché adesso abbiamo parlato così di un'idea della vita di una ma lui ha inventato una cosa che è proprio della letteratura contemporanea cioè quell'idea che è legata diciamo a dei generi come l'autofiction ma non solo dell'idea appunto della conoscenza come movimento dello spazio se leggete non so Patrick Modiano Emmanuel Carrere Annie Ernaud tantissimo quasi sono tutti leggendo il bellissimo libro di Canaobbio anche quello di Sebaste appena uscito dalla neve di Teseo attraversare la notturna è un libro stupendo su Torino tra l'altro il libro di Sebaste ho visto quanto insegna Russo quanto perché non conoscono non conoscono le cose e ce le propinano tutto il rapporto con la città tutto è mediato dalla capacità dell'individuo di fare quella passeggiata di riconoscere quella cosa e tanto è soggettivo tanto diventa di tutti ma un altro scrittore proprio forse il più russoiano è stato Winfried Georg Sebald grandissimo scrittore tedesco che ha l'autore delle anelli di Saturno di Austerlitz sapete che in suo libro di viaggi Vertigini ha un capitolo meraviglioso di una visita all'île de Saint-Pierre di cui vi parlavo sul lago di Bienne quanta identificazione c'è in questo scrittore capace di avere inventato un meccanismo di conoscenza in cui non è importante che la visione soggettiva sia limitata perché in quel limite c'è una miniatura dunque un'immagine credibile del mondo questo è un po' il il gioco della prosa di Rousseau anche le confessioni le confessioni sono un libro meraviglioso sì stiamo sempre a dire non ha ragione lì si mette ma lui sapeva benissimo che parlare di sé conduceva a quello che si chiama il falso sincero lui lo chiama per lui il falso sincero per eccellenza è Montegne da cui aveva imparato tutto perché Montegne è stato il primo prosatore che ha inventato questa forma che cosa sono questi libri non sono né saggi né racconti forma mista diciamo non saprei manco come come definirla oggi si dice autofiction sono tutte parole insomma è qualcosa che non è un romanzo non è una poesia non è un trattato di estetica ma in qualche maniera tutti questi generi interagiscono tra loro in una forma narrativa che non è quella tradizionale diciamo no e questo è veramente allora lui dice si Montegne io lo amo tantissimo non avrei scritto se non c'era Montegne però mi dà fastidio proprio quando è sincero perché sceglie i difetti che ci stanno simpatici dice è come uno di profilo che noi non sappiamo mai se ha un occhio quercio una cicatrice sulla guancia perché ha scelto il profilo giusto ora francamente non so quanto sia vera l'accusa ma più che un'accusa Montegne è una stai attento a te stesso lui lo scrive in un appunto prima di scrivere le confessioni perché i faux sinceri come li chiamo i falsi sinceri non sono solamente le persone tutti noi tendiamo è proprio fa parte del meccanismo dell'ostacolo diciamo no a dare anche parlando dei nostri difetti potremmo fare la stessa critica oggi si parla tanto di nier nuovo chiunque scriva di sé potevi dire di peggio però al di là al netto di questa cosa sono libri in cui in realtà non è tanto importante che ci nasconda un amante o un figlio di più un figlio di meno una persona morta nel 1778 oggi non abbiamo lo dico perché molti ancora oggi si affannano a prendere in castagna il povero Jean Jacques su dei particolari in fondo fa parte del gioco perché lui ha ostentato tanta verità che addirittura sono delle cose divertenti adesso leggevo questa edizione oggi in treno ma gli contesta non so dice mi fermo a questa pasticceria il commentatore dice no non era quella perché quel dolce lo facevano è come se l'è tirata come diciamo a Roma nel senso che qualcuno che fa della parola verità sarà sempre destinato ad essere letto in controluce per alcune imprecisioni però poi alla somma di tutti questi calcoli noi abbiamo un'esperienza della verità totale e insisto che a mio parere è data proprio dal fatto che non è mai a parlarci un salvato non è mai a parlarci un convertito non è mai un parlarci a qualcuno che ha interamente compiuto un percorso di liberazione quindi diciamo è uno scrittore sempre con noi qualcuno poeta che non c'entra niente con Rosso Elliot nella terra desolata racconta di una specie di cosa che dice nelle spedizioni antartiche spesso i resoconti di gente rimasta sola negli acci e sopravvissuta hanno la sensazione di avere qualcuno che cammini assieme a loro e per Elliot questa poi è l'incarnazione del grande scrittore dello spirito guida insomma in qualche maniera io credo senza esagerare che Rousseau sia stato proprio uno spirito guida per la nostra modernità cioè potrebbe essere una una cosa che si può inputare alla mia ignoranza ma io in realtà non riesco a capire tutto quello che siamo senza questo imbuto non c'è prima una ci sono degli scrittori che hanno parlato di sé da Sant'Agostino a Montegno in maniera sublime ma non c'è quella duttilità non c'è quell'idea del del di un di un io che è il risultante di forze contrapposte qualcuno ha detto giustamente che che Rousseau in alcuni aspetti anticipa l'antropologia di Freud da questo punto di vista ed è sensata come come cosa perché anche l'antropologia di Freud ha un'idea dell'identità come risultante di cose che sono di per sé contraddittorie ecco e più di Freud lui diciamo che considera una virtù il fatto che questa percezione del mondo gli è dettata dall'incoerenza mentre diciamo il solito vanto dell'intellettuale lo senti sempre dice ho sempre pensato che non da oggi penso lui riderebbe di queste premesse perché lui appunto ve l'ho letto ve l'ho spiegato che dice certo c'è il momento della durezza c'è il momento della capacità negativa di rifiutare e poi c'è il momento in cui cambia il vento e le cose sembrano più facili io sto molto bene con voi vi vorrei intrattenere però ancora a lungo però qua ho avuto ho anche sforato rispetto alle cose quindi non approfitto della vostra pazienza chiaramente se ci sono domande sono ben gradite io tra l'altro non ho una regia quindi stavo andando avanti improvvisando oppure chiaramente anche qua fuori in qualunque momento cerchiamo di essere un po' russoiani almeno in queste cose vi ringrazio molto per la vostra presenza e chiaramente tra l'altro non lo dico per semplice colleganza eccetera ma ho letto il programma di questa iniziativa in cui sono stato indegnamente il caso di dire rispetto alle persone che ne parleranno come Maurizio Ferraris ne hanno già parlato vi invito a seguire tutta questa cosa perché secondo me ogni contatto con Russo e anche per questo l'ho voluto un po' leggere anche se vi ho tradotto male perché proprio poi alla fine quello che Cristina Campo diceva trovati le citazioni e poi fai crescere il tuo discorso come un rampicante fra i sassi spero di essere stato quello e spero solo di avere parlato a servizio di questo grande spirito e in comunione di intenti con voi grazie 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 grazie